Allora, la prossima, Erika, interpreta, bonoca, puntata, non so da che... Da Love Live, sì, certo, certo. Love Live in borghese, quando sono a scuola e non quando sono si palti. Oh, qua c'è già più edizia. Ok, bravissimo, bravissimo, ma tu vorresti veramente fare l'idol? Allena ti tanto, richiamati fra cinque anni e ne parliamo.